oh ok dai 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 stai un po' più alto oh ma che niente ok no prendi i piccoli si si ma lì si va bene secondo me non puoi fare le le sto dando al piede metto in giardino ragazzi portatevi via da lì la mia motosega aspetta eh prova di la prova fai cosa e prova aspetta c'è gente aspetta aspetta tanto ci spuole dopo che vinto si incazza esatto esatto lo butta giù oh prima eh ah 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 andiamo a casa via 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 ecco 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 io ero già stanco niente c'è il vuoto hai visto come ha fatto l'accompagnata invece tu lì eri già morto c'è no no hai visto parla le cerri e facciamo ingazzanti come si chiama cerri cerri cala cerri cala ecco gli abbiamo già dato il soprannome siamo già a posto dai li facciamo fare quello lì vedi se non metto i piedi però no quello di lì eh andiamo o devo finire tutto tutto il naso della videocassetta mi compiere per mano dai sta controllando le marce aspetta non sa che marcia c'è dentro questa oh dio mio dai quello è difficile dai dai fai come ha fatto lui su metti lì come eri lì prima bene dagli un colpetto e poi parti morbido vai 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 su di qua è meglio non di lì fa la furba va vai lì vai lì oh Dei metter posto la legna Dove è andato? Dove c'è tutta la gente Bravo! Tieni su di cuore Ma lì com'è che è? Si fa la conchetta? No di lei è più morbida che qua Cioè arrivi su e scendi Ma lì com'è che è? Usa la sua moto di appoggio Ah è il sentiero Lascia la lei che la usa lui come appoggio Questa qua per i verdi va bene E tecnica Piano Madonna Ma l'ho trovato immacolato Ma l'ho trovato Ma l'ho trovato Ma l'ho trovato Ma l'ho trovato Un po' di più Dopo la ce la faranno fuori loro Vedi che hai già capito Vedi che hai già capito Non devi andare là Dai via vai Bene eh Senza fermarti eh Allargala bene Oh prima eh Dai seconda va bene Vai Via 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 e arriva stessa questo tipo Con le gambe che ha Arriva su uguale Trovato 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 È rizza